No, si vede come me, non ti preoccupare. Va bene, grazie per essere stato il mio treppiedi personale. Ebbene sì, nel video di oggi parliamo di tastiere, e nello specifico la Endorfi Toc Compact Wireless Keyboard con Cherry MX Brown. Voi sapete che io non sono un enorme fan delle tastiere custom, per me una tastiera vale l'altra, però di questa ne dobbiamo effettivamente parlare. Qual è la particolarità di questo prodotto e perché ho accettato questa recensione? È una tastiera Bluetooth, cosa significa? È wireless, non è necessario un cavo per collegarla al vostro PC, RGB programmabili, un cavo che può essere staccato, i keycap PBT double shot, quindi sono quelli che non si scoloriscono col tempo, sono davvero poi molto molto fighi da sentire e da toccare, e la cosa che mi piaceva di più sono gli switch che sono hot swappable, significa che questi switch possono essere cambiati e potete installare lo switch che preferite. Osservando la tastiera vediamo che è una 65%, molto molto piccola, la lunghezza è solo di 29 cm, quindi entra praticamente su qualsiasi scrivania che voi abbiate a casa, e cosa estremamente figa, essendo wireless voi potete bene o male portarla in giro per tutta casa, e sinceramente parlando non ho fatto questo test, perché l'ho usata al computer seduto alla scrivania, ma non c'erano assolutamente problemi di latenza, sia che voi foste vicini al ricevitore USB che è comodamente inserito sul retro della tastiera, o se appunto la tastiera era sulle vostre gambe, voi stavate giocando a qualcosina, non c'è il minimo problema. La tastiera è regolabile? Sì, ci sono qui i piedini che sono magnetici, voi potete tranquillamente staccarli e attaccarli a vostro piacimento, ma la cosa che più mi è piaciuta della tastiera, a parte la qualità costruttiva, che raga è un carro armato praticamente, io la sto flettendo con tanta di quella forza e non si muove di un millimetro, non fa rumori strani, sentite? Quello che sentite sono i keycap che sono sugli switch Cherry MX Brown e hanno un suono fantastico perché sono tattili, sentite? Bello, 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 potrei fare effettivamente un ASMR sonoro con le tastiere, con questa tastiera in particolare. I tasti più grandi, quali Enter, Shift e la barra spaziatrice, sono stabilizzati in maniera decisamente ottima, cioè non ci sono suoni strani che provengono dal case della tastiera, non ci sono scricchioli vari, e devo essere sincero, sono estremamente soddisfatto di come questa tastiera performa in game. La grandezza dei keycaps è quella classica, quindi praticamente sia che utilizzate una tastiera più grande con più tasti o questa non avrete assolutamente il minimo problema ad adattarvi alle dimensioni e i tasti sono praticamente dove volete che si siano. Ho una sola lamentela per quanto riguarda questa tastiera, e cioè la modalità wireless. Quando accendete la tastiera, perché c'è uno switch dedicato, praticamente in tre posizioni, collegata col cavo, spenta e accesa in maniera wireless, la tastiera si accende e in teoria dovrebbe funzionare tranquillamente quando il ricevitore è attaccato al vostro PC. Il software però della tastiera purtroppo mi ha fatto un giochetto che non mi è piaciuto. Nel senso, una volta che fate partire il software della Endorphie che vi permette di cambiare il colore, io praticamente, vedete, ho cambiato il colore dei tasti ed ora sono praticamente tutti quanti bianchi, vi permette poi di creare delle macro, vi permette di attivare la funzionalità del doppio tasto, perché appunto, essendoci pochi tasti, voi potete o tramite software attivare le freccette sui tasti CTRL, SHIFT e gli altri due che sono a fianco, oppure sui quattro tasti WASD. Quando fate però l'upgrade del firmware della tastiera, potrebbe esserci qualche problemino. Io credo che sia un bug del firmware stesso, perché una volta fatto l'upgrade all'ultima versione, la modalità wireless non funziona più. Cioè, nel senso, il colore ricevitore attaccato non funziona. Ora, non è un problema hardware, perché io la tastiera l'ho utilizzata per una settimana prima di fare questo upgrade del firmware e funzionava veramente bene. Per quanto riguarda la longevità della batteria interna, la tastiera l'ho utilizzata appunto per una settimana e non ho mai avuto problemi, non si è mai spenta e credo che la batteria non fosse nemmeno al 100%, come appunto succede quando unboxate questi prodotti. La cosa che però non mi piace della tastiera è che, per la produttività, voi sapete, io sto facendo praticamente il videomaker, sto collaborando con uno studio di produzione della mia zona, questa tastiera, sulla mia scrivania, per quanto riguarda l'editing video, è durata 5 minuti. 5 minuti perché, abituata alle shortcut che ci sono su una tastiera normale, dover cambiare ogni volta il profilo e quindi attivare il doppio tasto per quanto riguarda WASD o comunque gli altri tasti qui, perché come vedete qui ci sono anche i disegnini delle freccette, appunto questa è la doppia funzionalità dei tasti, mi ha letteralmente mandato ai pazzi. Sebbene sia una 65%, quindi estremamente piccola e con meno tasti rispetto a una tastiera normale, come potete vedere, e vi ho fatto vedere anche prima, ci sono praticamente sui tasti principali la stampa dei tasti alternativi, che potete attivare tramite una sequenza di tasti appunto sulla tastiera oppure potete attivare dal software di Endorfi. E sinceramente parlando, divertente, ma sarebbe stato preferibile una soluzione alternativa a quella lì che è stata adottata. Ma ei, sono Augustio, sono abitato alle tastiere grandi, quindi credo sia solo questione di abitudine. Come state vedendo dalle riprese, c'è comunque una piccola tabella riassuntiva qui sulla parte posteriore della tastiera, dove vi spiegano tutte quante le varie combinazioni di tasti per attivare o disattivare la doppia funzione. Per quanto riguarda l'esperienza tattile, è una tastiera estremamente figa da provare. Io non ho mai provato una tastiera custom, sapete, quelle super mega costose da 300, 400, 500 euro, ma questa tastiera è davvero la migliore a livello di performance, user experience che abbia mai provato. L'ho letteralmente martoriata giocando a Warzone 2 e, apro e chiudo parentesi, nei prossimi giorni uscirà un video anche su Warzone 2. Quindi, se la tastiera ha resistito ai miei scleri su quel gioco, perché ragà, faccio veramente ca... Significa che praticamente potete letteralmente lanciarla dal balcone e, credetemi, questa tastiera praticamente rimarrà integra come se fosse appena tirata fuori dalla scatola. Un'altra cosa che mi è piaciuta molto è il collegamento via cavo, perché c'è una porta USB-C, ora non so se riuscite a vederla, ma si trova praticamente qui, e ci sono tre vie per far passare il cavo, voi potete tranquillamente inserirlo dritto per dritto oppure inserirlo da qua, collegarlo e farlo passare ai lati, così che, appunto, non abbiate problemi per quanto riguarda la comodità sulla scrivania. Comodità che però effettivamente, sapete, viene un pochettino a mancare quando nel mezzo della partita, magari per sbaglio, tenete premuto il tasto FN, cioè il tasto FN, e tenete premuto ENTER per 3 o 4 secondi e si attivano o si disattivano i doppi tasti. Ma fondamentalmente credo che questa qui sia solo questione di abitudine. Infatti la mia esperienza con la TOC è stata al 95%, decisamente più che ottima. L'unico problema è semplicemente che, come dice la scatola, ho 99 problemi, ma cavi su tutta la scrivania non sono uno di questi problemi, è proprio il comparto wireless, cioè è un upgrade firmware che è stato fatto che però ha limitato un'ottima tastiera a essere una tastiera mediocre perché, appunto, non si può più collegare wireless. Ad ogni modo, sono certo che gli sviluppatori di Endorfi risolveranno questo piccolo bug e che questa tastiera tornerà ad essere la bestia che era all'inizio. Ringrazio ancora Endorfi per avermi mandato questo fantastico sample. È una tastiera che io sto seriamente pensando di far diventare la mia daily drive per quanto riguarda il gaming, perché ve l'ho detto, se volete giocare gli sparatutto e volete avere veramente comfort per le vostre dita, sta tastiera è fantastica. E lo dice uno che praticamente al momento sta giocando con una tastiera di 10€ e vi lascio il video qui sopra da qualche parte se volete andare a vedere la tastiera da 10€ appunto che acquistalo da Amazon. In definitiva, in descrizione, ci sono i link allo shop di Endorfi e ci sono varie versioni di questa tastiera con vari switch, quindi switch che più vi aggradano e sinceramente parlando sono certo che non ne rimarrete assolutamente delusi. Grazie mille per aver guardato il video, ci vediamo a un prossimo video, sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro G e mi raccomando, date un'occhiata a questa tastiera, provatela se potete perché ne rimarrete decisamente, decisamente contenti. Ciao ciao belli! Ciao!